Oltre a Daphne, Fermare Apollo è il titolo della mostra che all'interno di Palazzo Crema a Ferrara svela con il progetto Fermare Apollo e attraverso il recupero di un mito famoso come quello della ninfa Daphne, l'origine antica, del retaggio di stupre e rappimenti nei confronti delle donne, dee, ninfe o comuni mortali da parte di divinità maschili. Apollo che insegue Daphne per possederne il corpo contro la sua volontà è solo uno dei tanti miti a sfondo di una violenza sessuale che sull'Olimpo era una prassi diffusa. A raccontarci delle storie in anni recenti è stata Eva Cantarella, storica e giurista, studiosa di diritto greco-romano, che nel volume Gli amori degli altri tra cielo e terra da Zeus a Cesare, edito dalla nave di Teseo, definisce Zeus il primo molestatore seriale della storia occidentale. Del Dio solitamente seduttore si è tramandata attraverso secoli e millenni la fama gloriosa, delle fanciulli insidiate e violate spesso si sono perse se non le tracce, certamente la voce. Tutto questo per spiegare come si è radicata nella nostra cultura occidentale l'immagine di una donna, la merce del Dio, che per soddisfare i capricci istinti non va tanto per il sottile. La mentalità patriarcale si tramanda così anche attraverso queste narrazioni presentate come documenti del passato, a volte perfino divertenti, mai, come testimonianze di una cultura e di rapporti fra i generi per noi oggi inaccettabili. Daphne viene trasformata in alloro per pietà dei genitori divini, per consentirle di sfuggire alla frenesia sessuale del Dio venerato dal mondo classico, anche come Dio della bellezza, delle arti e della medicina. Apollo resterà forse deluso da questa metaforosi, ma non viene assolutamente fermato. La mostra, di Palazzo Crema, che fa parte di un progetto realizzato da Udi Nazionale Capofila, con i partner Udi Ferrara e Udi Palermo, finanziato da un bando del Dipartimento delle opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, getta una luce diversa sul mito e racconta le tappe compiute in Italia nel Novecento dei movimenti femminili e da una politica di affermazione dei diritti e del rispetto fra i generi per costruire un mondo profondamente diverso. Il visitatore, infatti, è accompagnato da una linea del tempo attraverso la quale potrà scorrere le lotte delle donne per sconfiggere la cultura patriarcale e permissiva verso la violenza di genere. Il percorso prevede anche la proiezione di video, di manifesti politici e fotografie storiche che scandiscono il passaggio dei tempi e le conquiste delle donne in Italia negli ultimi 76 anni. In questa occasione si potranno vedere anche i lavori dei studenti e studentesse di Ferrara, delle scuole d'Orso d'Orsi e Giuseppe Carducci, che hanno partecipato al progetto Il no alla violenza è una questione di libertà, realizzato da Udi Ferrara nell'ambito dello stesso bando del Dipartimento delle Pari Opportunità. Sul tema del mito, la conferenza, sconfinare il mito, un'altra narrazione tra mito e arte è possibile, si terrà all'interno di Palazzo Creme il prossimo 3 dicembre.